Sì, sono un po' di fronte, ma sono un po' di fronte, dove le metteranno le attesi sto novello, stanno andando, stanno andando, stanno andando a stacchi, dimmi il coglio, come si sta andando, stanno andando in terra, io sono andando, tutti e anche le scuole, dove le stanno andando, dove è l'oro? Sì, tutto, già dovrebbe prendere il posto di giuro, sarà male, no, questo Kevin lo dovrebbe prendere, Kevin, 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 Kevin è il più intelligente, non si sta facendo Grazie.